Garantire la sopravvivenza del paziente colpito da infarto miocardico acuto agendo tempestivamente, questo l'obiettivo del corso ACLS Advanced Cardiovascular Life Support che ha preso il via stamattina al CHEF Pass. Una o due giorni di formazione per fornire ai medici del 118, ai cardiologi dei centri SPOC e agli operatori del pronto soccorso gli strumenti conoscitivi e metodologici essenziali per riconoscere ed affrontare le principali situazioni di criticità ed emergenza cardiovascolare. Il corso, realizzato nell'ambito del progetto regionale Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia, voluto dall'assessorato regionale alla salute, coinvolgerà durante il biegno, grazie all'organizzazione di tre corsi ogni mese circa 1000 operatori tra medici e infermieri. Oggi direi che è una giornata importante perché con l'avvio di questo corso di ACLS significa un supporto avanzato per quanto riguarda i pazienti, i soggetti che possono essere colpiti da un infarto del miocardio, si avvia quello che è il progetto principale della regione siciliana, cioè cercare di intervenire tempestivamente su quella che è la cardiopatia ischemica, quindi ridurre nello stesso tempo i tempi morti che si vengono a creare fra il momento dell'insorgenza, dell'infarto, della malattia e il soccorso vero e proprio. Questo obiettivo qual è? Cioè di dare a tutti i cittadini siciliani la possibilità di essere trattati in qualunque posto avvenga un infarto acuto con la stessa maniera. Noi dal punto di vista medico diciamo che il tempo è muscolo. Cosa significa? Che prima si interviene, meglio si interviene, si riduce sia la mortalità ma nello stesso tempo anche il danno che si crea a livello del cuore colpito dall'infarto. Quindi oggi noi con questo corso, con questi corsi che avverranno nei mesi successivi cerchiamo di dare al paziente l'assistenza migliore possibile, nel senso di mettere in atto tutte quelle procedure che possono portare a complicanze cardiache anche mortali, anche fatali e nello stesso tempo iniziare tutti quei farmaci, quelle precauzioni, quelle metodologie mediche e strumentali che possono prevenire le complicanze che possono essere anche mortali. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questo momento la Sicilia si sta avviando verso un progetto per dare il meglio che c'è a livello internazionale per quanto riguarda la gestione dell'infarto del miocardio in tutte le sue varie fasi, nel momento dell'insorgenza, quindi nell'iperacuzia, nella fase, entro le prime ore, nella fase della postacuzia, diciamo nel portare il paziente in un'unità coronarica fornita di emodinamica, possibilità di fare un'angioplastica primaria in modo che si riapre l'arteria che è causa dell'infarto e quindi può danneggiare il muscolo e ridare vitalità a questo muscolo e prevenendo il più possibile questo danno.